Sì, sono Federico Carbonini, presidente dell'associazione Trevido Stile 13.6. Oggi siamo qui al Tintero Boat sul Canal Bianco per proporre un pranzo sociale per ripartire dopo questo periodo di Covid, di lockdown. Anche noi siamo stati fermi durante questi ultimi mesi e questo pranzo vuole essere l'inizio di un percorso nuovo di rilancio, di ripartenza dell'attività dell'associazione. In questo turno ripartiremo con gli eventi in sospeso durante il lockdown e anche i progetti stanno ripartendo per completare la ciclabile da Treviso Stile nel territorio veronese fino a Stile. In questo momento la ciclabile è stata completata da Treviso fino a Montegalda. È in fase di progettazione, il restante tratto, la progettazione è fidata a Veneto Strade ed è stata finanziata fino a Cerea. Manca da finanziare la parte finale da Casaleone a Stilia. Però come detto il progetto sta andando avanti in quanto la progettazione è già stata affidata. Sono già passati i referenti di Veneto Strade per fare tutte le verifiche del caso. Grazie.